Disaggie e code lungo il traforo del Gran Sasso, lei ha già presentato un'interrogazione scritta ma ha detto in conferenza che è pronta ad andare a bussare anche alla porta di Salvini per chiedere l'azzeramento del pedaggio. Sì, la minima cosa che possiamo fare è proprio quello di non far pagare il pedaggio perché appunto non c'è il servizio, non è corretto che Pendolare o altri cittadini che devono percorrere l'A24 hanno tutto questo disagio. Se non c'è il servizio non deve esserci neanche il costo e quindi è ingiusto che venga pagato. Quindi o viene azzerato nel brevissimo tempo o altrimenti andrò direttamente a bussare la porta perché non mi sembra una cosa corretta. Mancherebbe un pochino più di coordinamento perché appunto i lavori ci stanno, alcuni per migliorie tipo la SS80, altri per necessità tipo l'A24, sperando che siano delle necessità perché sono passati tanti anni più commissari e l'acqua negli ultimi anni non sono stati problemi, l'acqua di ruzzo è ottima, è buona, quindi speriamo appunto che ci servano questi lavori e che non arregano danni ulteriori alle falde acquifere e quindi bisogna coordinare questi lavori anche perché sulla A14 i lavori purtroppo continueranno ancora per diverso tempo quindi per andare sia da nord a sud abbiamo problemi sulla A14, per percorrerla in maniera est-ovest abbiamo problemi con l'A24 e chi magari nella costa terramana voleva raggiungere Roma tramite la A24 quindi Avezzano sul Mona ha ulteriori problemi nell'attraversare sulla A14 il tratto, quindi a livello infrastrutturale purtroppo stiamo vivendo un momento non felice per i cittadini e quindi dobbiamo lavorare per fare in modo di alleviare soprattutto i costi ma anche i tempi e la qualità della vita. Sarebbe stato secondo me necessità di un coordinamento maggiore a livello perlomeno regionale visto che parliamo di ANAS, di commissario dei lavori per la sistemazione del sistema acquifero del Gran Sasso e l'altra autostrada, la dorsale adriatica, quindi la somma sì, voleva certamente bisogno e necessità di un coordinamento regionale. Marsiglio ha detto qui a Teramo la provincia deve festeggiare così come quella aquilana per la messa in sicurezza dell'acquifero D'Alberto non è dello stesso avviso, lei cosa ne pensa? Non voglio scendere sotto giudizi tecnici, è ovvio che se veramente necessitano è una grande opportunità e quindi benvengono i lavori il tema è che in questi anni sono cambiati tre commissari, i lavori non sono stati fatti ma l'acqua è stata buona lo stesso quindi la contaminazione tra le tre infrastrutture perché sostanzialmente i lavori di messa in sicurezza è la compartimentazione delle tre infrastrutture presenti all'interno del Gran Sasso l'asse autostradale A24, le captazioni dell'acqua potabile e la presenza dei laboratori di fisica nucleare queste tre infrastrutture per poter coesistere devono essere compartimentate, cioè non deve essere contaminazione dell'acqua tra queste tre infrastrutture, quindi questi lavori devono servire per garantire questa compartimentazione la domanda è, fino a oggi l'acqua è stata buona, tranne un periodo tanti anni fa che fu poi bonificato e risolto la domanda è, serviranno questi lavori? Io non lo so, non sono un tecnico penso sempre alla buona fede di chi in maniera specifica, professionale, ne sa più di me quindi mi auguro che sono necessari questi lavori, gravissimo sarebbero che questi lavori non sono necessari stiamo spendendo tant'anti soldi, creiamo difficoltà ai cittadini e magari andiamo a rompere un equilibrio